Ciao ragazzi, buonasera Ciao ragazzi Ciao Jessica Buon suor Ciao Stelios, grazie Queste sono sempre le famose palline ragazzi che stanno per scoppiare Buonasera a tutti Bene ragazzi, bene, spero anche voi Ciao ragazzi Un caloroso preferuto a tutti quanti Buonasera Ciao Ciao demon amico mio tesoro come stai? Ciao ragazzi ma dopo queste parline ragazzi c'è ogni volta la stessa storia dopo mi tocca raccogliere palle da sotto al tavolo non fate caso all'esplosione visiva che c'ho qui è è tutto sotto controllo vediamo cosa mi scrive demon rispetto a ieri un po' meglio solo che mi sento a pezzi mi dirai che andrà sempre meglio tesoro mio ciao ragazzi grazie per il follow una pallina di queste è andata in testa a lui vabbè iniziano a scocciarmi queste facciamo questa ciao Anna grazie vi ricordo di attivare la campanellina ragazzi per rimanere aggiornati quando sono in live con ieri e che se con ieri chi qui che ha sono sempre stata qui non sono mai andata via ragazzi mi chiamo dappertutto americene smf anche su youtube e su twitch un po' di un po' di un po' di più Sì, Sonia, per i G in ASMR dappertutto. Rolax, 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 rolax. Rolax, rolax. RELAX Non fate incazzare demon ragazzi Mi raccomando Grazie per i like ragazzi Grazie di cuore per i vostri like Vedo tanti cuore salire su per la schermata Grazie infinitamente di buono Che cosa con Con tutto che sto Però li riusciamo a cantare dai demon Grazie 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 ragazzi Grazie 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 si è qui accanto al mezzo alla mia sinistra si è qui accanto al mezzo e' un po' di più Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Poi 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 vediamo se ho già. Ciao. 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 Buonasera ragazzi. Tu ero hai fatto cose molto simili, sai Mary? Ciao. 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 Grazie Mary. Ciao. 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 Veronica. Ciao. 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 mi vedevo tutta rallentata ragazzi mi stava dando fastidio perché mi vedevo a scatti scuola chat no era ma io mi vedevo a scatti c'è la mia carta che rompe la scatola c'è la mia carta che mi vedevo a scatti non mi vedevo a scatti Ticco 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 Mi vedevo bloccata ragazzi ho riavviato la live Attivate la campanellina se mi volete vedere il live ragazzi Se purtroppo le notifiche non arrivano più proviamo ad attivarle la campanellina Sto facendo dei trigger molto poco impegnativi Perché sono stanca ragazzi A quest'ora alzare le braccia verso la telecamera non è una gran bella cosa ragazzi Grazie Sonia Grazie Sonia Grazie Fini Ragazzi io sono quasi tutte le sere live su tiktok intorno alle 10 e mezza e dopo mi sposto su twitch Queste live che mi vedete fare a quest'ora sono straordinarie Sono fuori sono extra però non faccio mai live a quest'ora Insomma ecco non avevo sonno dopo la live su twitch me ne sono venuta qui Però adesso il sonno sta arrivando devo dire Ciao ragazzi Chiudete gli occhi ragazzi Se siete venuti qui per rilassarvi dovreste chiudere gli occhi o quantomeno cercare di ascoltare solo la mia voce e di trigger Chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Grazie, grazie Angela. No, grazie ragazzi, è troppo buone. Ciao ragazzi, a farti dormire. Di solito faccia esamare in compagnia di un gatto. Una strega si appare sempre dell'aiuto del suo famiglio. Ehi famiglio, dove vai? Che fai? Che c'è? Luna? Lu? Che c'è? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Sonduit. bevami faccio scendere la razza perché dopo un po' inizia ad agitarsi incredibile, sarò di spettatori quando c'è l'una in live e io faccio le live su Twitch anche ragazzi lo sanno tutti, anche i muri ASMR con le fusa con le fusa però mi ha appiccicato tutti i pelli tutti i pelli che ne dite se andiamo a dormire? che ne dite se andiamo a dormire ragazzi? che è tardi, 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 tardi vi do la buonanotte se volete passate a trovarmi anche su Youtube oltre che su Twitch mi fa sempre molto piacere lì ho tanti video rilassanti fatti apposta per voi ragazzi vi do la buonanotte grazie di cuore per essere stati con me e ci rivediamo domani ragazzi che mi hanno tenuto compagnia fino a quest'ora buonanotte ragazzi ciao 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 buonanotte 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 ciao disperazione buonanotte 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 ciao Sonia ti voglio bene buonanotte Grazie a tutti